Mele e adesso, non so se sono vino però questo è, vitti, vitti queste, sempre vitti queste, qua questa chiamata pugliana un po' più avanti, rottagliano, è un giardino di me, ah e stanno lavorando qua, ecco io, adesso andiamo su di qua, comincia la cosa, poi su di qua, vorrei che forse è quello, vorrei che forse questo è il rifugio Mantova, deve essere quello il rifugio Mantova, ok, va bene, andiamo in giù, che giornata, bene, 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 Spettano, oggi è proprio giornata, ecco, se lo facciamo questo, Bios, giusto? Monte Bios, Bios, sì, un altro come un via deve essere giù di là, ah, simpatico, sì, No, vediamo la gente spontanea, sì, sì, sì,ètement, poi decimando un po' di neve, dai, un pochino, un pochino, sulle cima, ma di là dobbiamo scendere un pochino? Adesso andiamo là, quella sella lì, e dopo giriamo, camminiamo tutta la parte di là, infatti se vedi c'è il sentiero, eh sì, sì, e va su, ma vedi che la vegetazione a 2005 e già sparisce. fantastico, bellissima, ossia solo panoramica comunque quello è il rifugio Mantova, capriolo, sembra una lama un posto ideale per loro, per poscolare, ah si quasi sono tranquilli, due addirittura, hai visto? dentro c'è l'altro ottimo, fresco, fresco, ottimo come il giorno, buongiorno, via una bella corsa, ecco buongiorno, buongiorno passavamo che te hanno? grazie vedi, roccia, poi gli altri, basalto credo, basalto si, hai scritto 3000 o qualcosa? c'è un sentiero, in mezzo si, si, arrivi anche quella là è il ghiacciaio o nebbia? un ghiacciaio, non è nebbia questo penso che una volta era tutto ghiacciaio, secondo me tutto quello giù mano a mano tutto sciolto senti l'acqua, c'è una sorgente d'acqua in mezzo qua si, forse c'è gente là rosso, no? si, si, è vero, vero, vero si, quasi, quasi, sta arrivando su buono, molto bello non è rita, non? oh no tu si nemmo avia, fanno cominciare di là di là, di là, si, siamo, che giù di là ti è giù di là, ti è giù di là ah ok per me è dietro questo si, ho capito bellissimo, adesso gira un po' di nuvola ma in montagna è normale no, no, ma è limpido in qua e su cima è bella proprio il ghecciaio quello sopra si ecco neve fresco appena appena caduto hai ok da sole? da sole? no vai vai di là è 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 Poi questo pezzo è solo fino a qua, finisce? E puoi anche fare sciare un po'! Ho finito solo questa parte adesso. Il petro è un po' diverso, i petri sono un po' diversi, ma ci assomigliano. Ci assomigliano. Sì, ma è anche bello girare. Devi vedere questo giro, i movimenti. Sono bianchi e non fanno niente. Niente, è solo un po' di bianchi e non fanno niente. È solo un po' di bianchi e non fanno niente. E' un po' di usibilità. E' un po' di usibilità. ah mamma mia hai sentito odore sembra quello di salvatico sai fianca se non aprono poco poco alcune nuvole rimane ma alcuni aprono c'è un po di movimento di vento su questo dove c'è l'erba così pino ah questo è proprio ottimo questo è un terreno perfetto per i porcini e c'è anche l'altra brisa la sapo della famiglia dei porcini e secondo me quella era una brisa ti ricordi dove c'era questo funghi sotto l'acqua ti ricordo finché non mi ricordo ti ho detto 14 gradi e adesso 25 25 con sole adesso i prati sono ancora verdi verdi manca ancora quando inizia a far freddo allora cambia il colore ma adesso ancora il contrasto il cielo blu si e i prati verdissimi è bello proprio il paesaggio va bene per gli occhi mamma mia e anche per l'anima si si eh ma qua sta valle qua parecchie moto eh perché vengono dal passo tonale poi sai con moto fare curva è divertente e poi a volte tu fai no? sì sì o moto anche io sì sì questo si chiama Binz Binz io sì mi è questo io Grazie a tutti.